Cari amici, mi rivolgo a tutti voi che partecipate al convegno internazionale intitolato Mente, Corpo e Anima, una tematica sulla quale nel corso dei secoli si è impegnata la ricerca per la comprensione del mistero della persona umana. Saluto e ringrazio il Cardenale Gianfranco Ravassi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e gli organizzatori dell'evento, come pure le Presidenze delle Fondazioni Cura, Scienza e Fede e i Relatori. Il vostro convegno unisce la riflessione filosofico-teologica alla ricerca scientifica specialmente nell'ambito medico. Questo mi offre innanzitutto l'occasione per esprimere la comunione e la comune gratitudine a chi ha scelto come impegno personale e professionale la cura dei malati e il sostegno dei più bisognosi. In questo periodo, nutriamo tutti un sentimento di riconoscenza verso chi si dedica instancabilmente a contrastare la pandemia, che non cessa di mettere vittime e che, allo stesso tempo, mette alla prova il nostro senso di solidarietà e di fratellanza. Ecco perché pensare e tenere al centro la persona umana esige anche una riflessione sui modelli di sistemi sanitari aperti a tutti i malati senza alcuna disparità. Il programma dell'evento rispecchia gli elementi fondamentali indicati nel titolo «Corpo, mente, anima». Queste tre categorie non corrispondono alla visione classica cristiana, il cui modello più noto è quello della persona intessa come unità insentibile di corpo e anima, la quale alla sua volta è dotata di intelligenza e volontà. Questa visione non è però esclusiva. San Paolo, ad esempio, parla di tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo. È questa una concessione tripartita, poi assunta da molti padri della Chiesa e anche da vari pensatori moderni. Per attendermi alla vostra visione, mi sembra che il suo grande merito consista nell'indicare che certe dimensioni del nostro essere, oggi troppo spesso separate, in realtà costituiscono tra loro un intreccio profondo e inescindibile. Lo strato biologico della nostra esistenza, che si esprime attraverso la nostra corporeità, costituisce la dimensione più immediata, ma non per questo la più facile da comprendere. Non siamo spiriti puri. Per ognuno di noi tutto inizia con il nostro corpo, ma non solo. Dal concepimento alla morte noi non semplicemente abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. E la fede cristiana ci dice che lo saremo anche nella Resurrezione. La storia della ricerca medica ci presenta a questo riguardo una dimensione dell'affascinante viaggio dell'essere umano alla scoperta di sé stesso. E non pensiamo solo alla medicina accademica, per così dire, occidentale, ma alla ricchezza delle varie medicine delle diverse città del mondo. Senza dubbio le scienze hanno aperto davanti a noi un orizzonte di conoscenza e di interazioni che pochi secoli fa non erano nemmeno pensabili. Grazie agli studi interdisciplinari riusciamo a cogliere meglio le dinamiche che intercorrono tra la nostra condizione fisica e l'ambiente in cui viviamo, tra la salute e ciò di cui ci nutriamo, tra il nostro benessere psicofisico e la cura della vita spirituale, anche attraverso la pratica della preghiera o della meditazione nelle sue varie forme, e perfino tra la salute e l'arte. Penso in particolare alla musica. Infatti, non a caso, la medicina costituisce un ponte tra le scienze naturali e quelle umane, tanto da essere stata definita in passato «filosofia corporis», la medicina come «filosofia corporis», come testimonia uno dei manoscritti custoditi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Uno sguardo allargato e un impegno di ricerca interdisciplinare determinano dunque un progresso del sapere che, applicato alle scienze mediche, si traduce in ricerche più sofisticate e in cure sempre più adeguate e precise. Basti solo pensare al vasto campo della ricerca nell'ambito della genetica, indirizzata al superamento di svariate malattie. Essa, dall'altra parte, pone anche alcuni interrogativi antropologici ed etici di fondo, come ad esempio la questione della manipolazione del genoma umano per controllare o addirittura superare il processo di invecchiamento, oppure per giungere a un potenziamento alterato dell'essere umano. Altrettanto importante è una seconda dimensione, quella della mente, corpo-mente, che costituisce la condizione di possibilità della nostra autocomprensione. Di fatto, l'interrogativo di fondo con cui vi siete confrontati è quello che da millenni spinge l'umanità a ricercare l'essenza di ciò che ci rende umani. Attualmente si tende spesso a identificare tale costitutivo essenziale con il cervello e i suoi processi neurologici. Tuttavia, pur sottolineando la rilevanza vitale della componente biologica e funzionale del cervello, essa non è però l'elemento in grado di spiegare tutti i fenomeni che ci definiscono come umani, molti dei quali non sono misurabili e dunque vanno oltre la materialità corporea. Infatti, l'essere umano non può possedere una mente senza materia cerebrale, ma, nello stesso tempo, la sua mente non può essere ridotta alla mera materialità del suo encefalo. È un'equazione da seguire questa. Negli ultimi decenni, grazie all'intreccio tra scienze naturali e umane, si sono moltiplicati gli sforzi per comprendere meglio il rapporto tra la dimensione materiale e quella non materiale del nostro essere. In questo modo, il rapporto mente-corpo per secoli, esplorato prevalentemente dai filosofi e dai teologi, si è offerto anche all'indagine di chi studia il nesso tra la mente e il cervello. L'utilizzo del termino mente nell'ambito scientifico suscita qualche difficoltà, perciò è fondamentale poterlo capire e descrivere proprio in una chiave interdisciplinare. Con la categoria mente si vuole generalmente indicare una realtà ontologicamente distinta, capace di interagire con il nostro sostratto biologico. Infatti, con la parola mente viene di solito indicata la complessità delle facoltà umane, specialmente in rapporto alla formazione del pensiero. Rimane perciò sempre attuale l'interrogativo riguardante all'origine delle facoltà umane, come la sensibilità morale della persona, la compassione, l'empatia, l'amore solidale che si traduce nei gesti filantropici e nella dedizione disinteressata verso gli altri, oppure il senso estetico, per non parlare della ricerca dell'infinito e del trascendente. Come vedete, è una cosa molto complessa e molto interdependente. Nella tradizione giudeo-cristiana, così come in quella greco-classica ed ellenistica, queste espressioni umane vengono ricondotte alla dimensione trascendente, identificata con il principio immateriale del nostro essere, cioè con l'anima. Corpo, mente e anima. Il terzo elemento posto a tema del vostro convegno. Anche se nel corso del tempo questo termine ha assunto diverse accezioni nelle varie culture e religioni, l'idea che abbiamo ereditato dalla filosofia classica assegna all'anima il ruolo di principio costitutivo che organizza tutto il corpo e dal quale originano le qualità intellettive, affettive e volitive, compresa la coscienza morale. Infatti, la Bibbia e soprattutto la riflessione filosofico-teologica con il concetto di anima definivano all'unicità umana la specificità della persona irriducibile a qualsiasi forma di essere vivente, inclusa la sua apertura verso una dimensione soprannaturale e quindi a Dio. «Questa apertura al trascendente, a qualcosa di più grande di sé, è costitutiva e testimonia il valore infinito di ogni persona umana». Possiamo dire che il linguaggio comune è come la finestra, no? che esce e guarda e porta verso un orizzonte. Cari amici, sono lieto che a questo evento partecipano anche gli studenti di varie università del mondo. Vi incoraggio a intraprendere e portare avanti i percorsi di una ricerca interdisciplinare che coinvolga diversi centri di studio per una comprensione migliore di noi stessi, mirando sempre a quell'orizzonte trascendente a cui tende il nostro essere. Affido a Dio il vostro lavoro e auguro a tutti voi di avere sempre l'entusiasmo, dire anche lo stupore davanti all'essere umano che mai finiamo di scoprire, come ci ricorda Sant'Agostino con quell'affermazione di sapore biblico sempre attuale, «Quale abesso profondo è mai l'uomo». Grazie. Grazie. Grazie.